Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui così numerosi, naturalmente grazie agli ospiti che hanno voluto raggiungerci. Ritengo questa un'occasione molto importante e devo dire l'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna intende utilizzarla, come vedremo, declinarla in duplice maniera. Da un lato, da un punto di vista eminentemente pratico, faremo delle riflessioni, le faranno Laura e le farà Claudio, in maniera molto empirica, anche proprio per in qualche modo organizzare il lavoro che ci attende. Però io credo che sia anche il caso per una regione che ha partorito un istituto, che quindi non è semplicemente un servizio ma è un'istituzione culturale, anche un ragionamento preliminare di natura culturale su quello che è l'ambiente nel quale questa operazione si colloca. E soprattutto il clima che a livello periferico, diciamo così, viviamo nel Paese. Per muovere, come devo fare? Devo andare sulla frecina, perfetto. Ecco qua, la riflessione da cui parto è una riflessione rituale, questo è il testo di Tom Wolfe del 1976, il decennio dell'Io, e cioè la creazione, la scoperta del narcisismo. Il narcisismo non in senso naturalmente psicologico, ma è il narcisismo culturale, l'idea di una cultura della separatezza fra gli individui e il contesto sociale di provenienza nel quale erano inseriti, una questione che ci riguarda da vicino, nella quale sta uno dei problemi del nostro patrimonio. Il narcisista, diceva Tom Wolfe, ha perduto l'antica fiducia umana nell'immortalità seriale e non sentendosi vincolato ad una catena generazionale, non ha il problema di raccogliere eredità provenienti dagli antenati, né si pone il tema di lasciare qualcosa ai posteri. Se questo è la figura psicologica dell'individualismo spinto dei nostri tempi, possiamo dire che noi tutti abbiamo un qualche problema, perché la nostra funzione è esattamente quella, viceversa, di organizzare un trasferimento culturale intergenerazionale. L'altro elemento interessante era la presentificazione, che era direttamente conseguente da questa riflessione, e cioè la privatizzazione del tempo. Ognuno di noi cerca di gestire in via autoreferenziale quello che ha, questo eterno presente naturalmente non ci basta mai, la sensazione di non avere tempo è qualcosa che ci perseguita, fin dalla più tenera età, quando eravamo giovani, la mia generazione era quella di avere davanti a sé dei tempi infiniti da vivere, la percezione dei miei figli è quella di non avere mai il tempo per niente. Questa idea di una presentificazione assoluta naturalmente ha un problema, ma costituisce un problema per le biblioteche, archivi e musei. Perché questo è un problema? Perché facciamo fatica a trovare risorse per quella che potremmo chiamare l'attività di mantenimento, cioè di trasferimento dei beni nel tempo, sapete tutti benissimo che per attività di catalogazione, di restauro, campagne che una volta si facevano oggi, soldi non ce ne sono, viceversa per fare delle mostre i soldi si trovano sempre. Quindi abbiamo questa schizofrenia che però è il frutto di questa percezione collettiva che ci accompagna. La seconda, la parte successiva, adesso qui ho demolito completamente il quadro, quindi potrei avere una forma più... No, si è aperto io. Sì, però non è visibile. Sì, è visibile. Allora, l'elemento successivo, ne ho fatte pochissime di slide perché sarò molto breve, e forse è meglio che stia qui così mi dà una mano, per la mia, diciamo, sopperire la mia palese incapacità. L'elemento successivo è chiedersi se i cambiamenti generazionali influiscono sulla percezione del patrimonio, quelli che stiamo vivendo. Secondo me sì, rispetto al patrimonio selettivo di un tempo, destinato a durare, quindi abbiamo... Allora era chiaro il fatto che non ci si poteva portare tutto con sé, e che quindi bisognava selezionare qualcosa, e tante cose si perdevano inevitabilmente. Quindi il contenuto del patrimonio era un contenuto fortemente selettivo, assistiamo a una crescente patrimonializzazione di oggetti, cose, oggetti virtuali, pratiche, un nuovo paesaggio patrimoniale, un allargamento di questa sfera del patrimonio. Ma perché questa sfera del patrimonio si allarga? Si allarga perché facendo noi l'esperienza dell'inverno demografico, cioè dell'allungamento della vita biologica, noi tendiamo a fare allungare la giovinezza, allungare l'esperienza di vita, la morte invecchia, e la durata si trasferisce dalle cose a noi stessi. Cioè noi stessi cerchiamo di patrimonializzarci, cioè la soggettività è quella che ci interessa. Noi vogliamo patrimonializzare noi stessi, è quello che ci circonda nella nostra vita. Non è importantissimo lasciare questo a qualcun altro. E questo tema della questione patrimonio-eredità, mutata in senso biologico, perché la nostra vita cambia le relazioni fra le generazioni, naturalmente ha un effetto anche su quel patrimonio che è collettivo, naturalmente. Il modo in cui trattare l'eredità collettiva che proviene dallo Stato è cambiata. Questo cambiamento naturalmente dipende anche dalle diverse identità che scandiscono la nostra vita, che diventa sempre più lunga. E la presentificazione toglie spazio a questa vita prospettica, ognuno vive tante identità sovrapposte, selezionate in qualunque momento della sua vita, non riesce a individuarne una prevalente, perché esse cambiano completamente a seconda dell'età e dei contesti, e quindi quello che una volta era il tema centrale della memoria culturale, io provengo da un contesto, voglio selezionare i beni, trasferirli nel futuro per le giovani generazioni, è un ragionamento difficilissimo da fare, difficilissimo da legittimare. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine, questo piccolo ragionamento, e quindi dobbiamo chiederci cosa ne è del patrimonio nell'età di quella che potremmo chiamare l'età della soggettività e delle relazioni. Noi ci troviamo nel trionfo della soggettività perché lo dimostra il pluralismo museale. Il pluralismo museale è la domanda crescente dal basso di allargare il paesaggio patrimoniale sulla base di beni e oggetti che sono importanti per noi come soggetti viventi oggi, non traguardati a un futuro, dove l'elemento temporale non esiste, l'elemento prospettico temporale non esiste. Questo crea ovviamente un problema di sostenibilità, come sappiamo tutti. Dall'altra parte abbiamo questa sorta di schizofrenia che è poi frutto di questa disarticolazione fra la centralità retorica del patrimonio, crescente negli ultimi vent'anni a tutti i livelli, e dall'altra parte la marginalità economica del patrimonio al quale, nonostante renda così tanto, poi si trasferiscono una quota di risorse rispetto all'ambito culturale che fra Stato e Regioni è il 10% della spesa. Quindi è vero che renderanno così tanto, però è anche vero che, ahimè, ancora intercettano poco di quello che potrebbero. E di solito le performance, non parlo naturalmente dei lavori fatti a livello nazionale, delle biblioteche, archivi e musei, quelle nostre, diciamo, della periferia, di solito vengono misurate da indicatori che io considero insufficienti, che sono la famosa visitatori, bigliettazione, oppure l'indotto turistico nelle loro varie forme. Però che cosa si chiede oggi a biblioteche, archivi e musei? Lo diceva prima Tiziana. Biblioteche, archivi e musei si chiede integrazione sociale, quindi una domanda sociale, immigrazione, disabilità, si chiede attivazione di percorsi educativi in continuazione, si chiedono processi di solidarietà territoriale, e quindi c'è un allargamento del campo del patrimonio dagli oggetti alle relazioni e una traslazione del significato patrimoniale dal terreno propriamente culturale a un terreno che sempre più è di tipo sociale. Quindi abbiamo questa esigenza che la società ci attribuisce, che però naturalmente per la quale un tema di attrezzatura è assolutamente decisivo, perché noi siamo stati tutti formati per conservare degli oggetti, come diceva il professor Scalini. Questa operazione qua ce la siamo imparata ognuno sulla propria pelle, perché ha visto che i soggetti che venivano nei musei cambiavano. Lo vediamo da un quarto di secolo a questa parte e abbiamo dovuto imparare nelle forme più svariate e naturalmente alcune istituzioni come Icon per esempio ci ha aiutato a farlo. Occorre quindi riflettere sul fatto che il patrimonio, biblioteche, archivi e musei secondo me è un'infrastruttura culturale a crescente valore sociale, come tutte le infrastrutture costa e non può essere calcolata dal punto di vista del valore come le imprese. Poi ci sono anche le imprese su cui si può calcolare la generazione del valore che stanno intorno a questo ambito infrastrutturale che sono attività creative, servizi, imprese culturali e però che hanno un contenuto è una specificità diversa. Cioè pensare a un criterio contabile di tipo economico per infrastrutture è sbagliato perché se vogliamo adattarla a un concetto di impresa perché non sono imprese. Nessuno di noi pensa a una strada e a pensare di fare su una strada di comunicazione che è una classica infrastruttura un ragionamento di tipo economico in senso stretto. Perché? Perché i criteri di valutazione sono altri. E adesso mi ultima slide riguarda quella che potremmo chiamare gli sfidi e i rischi. Quelli che noi vediamo sul nostro territorio li viviamo già tutti questi due ambiti. Da un lato il patrimonio come magnete identitario della comunità è una cosa che ci chiedono anche le amministrazioni giustamente che dà stabilità e durata e dall'altra parte il patrimonio come espressione del nomadismo culturale di cose, idee, persone che puntano alla contaminazione e al mutamento. Tutti questi due pezzi fanno parte della domanda sociale nei confronti dei musei. Naturalmente sono interpretabili in senso estremo moderato entrambi. la parte estrema della prima va in senso etnocentrico e autoreferenziale e l'abbiamo trovata in forma paranoica anche nel librino che Brenton Tarrant quello che ha massacrato in Nuova Zelanda a Christchurch le persone che stavano le persone musulmane aveva scritto fisicamente dove si era occupato di heritage e cultura che vuol dire che quella deviazione etnocentrica del patrimonio esiste e noi non possiamo fare pensare che non esista. Naturalmente io non la condivido personalmente ma non è che non ci siano documenti atti e produzioni a livello territoriale che la propongono. Ce n'è una che potremmo chiamare in un senso più diciamo invece inclusivo che è una versione paesaggistica cioè quella dei paesaggi culturali in cui il tema è quello di mettere insieme i contesti e i musei che è poi l'idea della carta di Siena l'idea della costruzione di ambienti culturali che siano propositivi e inclusivi e questo è per quello che riguarda il primo punto. Sul secondo punto anche qui abbiamo una versione estrema di tipo chiamiamolo cosmopolitico spinto che punta la totale dematerializzazione degli oggetti e quindi contano solo i contesti performativi e quindi abbiamo la scomparsa degli oggetti e questa è un'ipotesi che come sapete è praticata in alcuni casi anche clamorosi anche a livello internazionale e dall'altra parte invece abbiamo le versioni innovative in cui oggetti narrazioni attraverso ricerche tecnologie rifondano una relazione fra materiale e immateriale che sia in qualche modo trasferibile quindi questo scusate la semplificazione necessitata dal tempo ma io credo che dobbiamo prendere atto che ci sono alcuni diciamo elementi di tempo del tempo in cui viviamo che spingono spingono noi come sistemi culturali sistemi museali ad assumere determinate decisioni noi non possiamo fare finta che questi processi non accadano stiamo nell'età del narcisismo spinto in questa totale dissociazione gli elementi di patrimonializzazione sono elementi soggettivizzati abbiamo secondo me la responsabilità come diceva giustamente Tiziana come diceva Laura Moro di portare il nostro patrimonio nel futuro abbiamo altrettanto la responsabilità anche di inserirlo dentro un quadro di condivisione di lettura come diceva il dottor Lampis e l'assessore Messetti che diano il senso di una innovazione forte che non che consenta di renderlo finalmente un pezzo attivo di questi processi culturali ma noi non possiamo prescindere da questi processi culturali che ci circondano e di cui gli amministratori sono pregni perché vivono in mezzo alla gente e li sentono come necessità questo è uno dei motivi per cui l'IBC ha anche un senso essere in qualche modo un collettore di queste sensibilità e di trasferirle io ringrazio la regione Emilia Romagna per averci dato l'opportunità di farlo grazie